È un nuovo progetto, questo progetto è stato redatto antecedentemente comunque al pacchetto sicurezza, lo ha anticipato perché di fatto siamo stati lungimiranti e rispetta in pieno quelle che sono le nuove direttive e i nuovi parametri di riferimento per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati sul territorio. Siamo molto felici del fatto che ci siamo classificati prima in Italia e questo sta rappresentando la capacità di fare progetto sul territorio ma soprattutto la capacità che abbiamo dimostrato da oltre un anno a questa parte di saper gestire i flussi migratori per non esserne travolti. Perché di fatto l'apertura dello Sprar prima e del Siproimi adesso ci consente e ci ha consentito di chiudere i centri di accoglienza straordinaria presenti sul territorio e che tanto male avevano fatto il nostro territorio danneggiando le imprese economiche, danneggiando i cittadini, pregiudicando il decoro e la sicurezza di tutto l'ambiente comunale. Che cosa cambia rispetto a prima? Cambia che prima i minori erano interamente a carico del comune e adesso i costi per la gestione di questi minori ci viene corrisposta direttamente dallo Stato. Quindi quei soldi che andiamo a risparmiare li postiamo a investire per i servizi sociali della città, quindi per gli italiani. Cambia che il primo progetto Sprar che prevedeva una presenza di 161 migranti adulti sul territorio viene ridimensionato a favore dei minori. cambia perché tutte queste procedure adesso rispecchiano perfettamente quelle che sono le indicazioni che arriva dalla nuova normativa e quindi ci mettiamo in mostra per la lungimiranza del progetto e la capacità di fare il sistema sul territorio. Silvana avrà anche dei comuni partner? Avremo due comuni partner che sono il comune di Picciano e il comune di Elice e soprattutto questo ci consentirà oltre che la collaborazione con i comuni anche di chiudere il centro di Santa Fenomena ex Artigian Luce dove ospitavamo 40 migranti adulti e riconvertire quella struttura per l'accoglienza degli italiani, dei nostri cittadini con difficoltà economiche e alloggiative dove realizzeremo degli alloggi condivisi per dare la possibilità a chi oggi purtroppo vive la crisi in prima persona di poter avere un supporto. Questo grazie anche all'emporio solidale e alla mensa dei poveri che abbiamo attivato da un anno e mezzo a questa parte e all'implementazione del pronto intervento sociale possiamo tranquillamente dire che Montesilvano si mette all'avanguardia per quanto riguarda la gestione e la risoluzione delle problematiche di chi oggi soffre di più.